Vabbè, dopo un lungo stop, dopo quel periodo di Covid, l'anno scorso mi ha sorpresa chiamata di Roberto. In frattempo ho già detto addio a Palavolo, quindi non ero in ambito più. Quindi quando mi ha chiamato Roby e quando mi ha dato ancora questa possibilità di ricominciare, l'ho preso, se posso dire, con tutte e due mani, perché ho ancora passione, ho ancora voglia, ho ancora energia di dare e di fare. Quindi penso in quello mio piccolo che posso dare ancora tanto e aiutare squadra a fare cose belle. Cosa ti aspetti da questa stagione? Una stagione molto bella, con tante gare vinte e tanti punti vinti.